Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa di lavori si registrano due chilometri di coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione Bologna. A causa del traffico intenso invece code a tratti tra Incisa Reggello e Firenze Sud sempre in direzione Bologna. Passiamo alla 11 dove a causa del traffico intenso si segnalano code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Uno sguardo alla FIPILI dove a causa di lavori si segnalano quattro chilometri di coda tra Scandice e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno, un chilometro di coda invece tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna in direzione Firenze. Sempre in FIPILI da segnalare anche code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze a causa del traffico intenso. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti!